Salutiamo velocemente, la facciamo venire con noi, Teresa Fumarola che è responsabile provinciale della FITA perché senza la Federazione Italiana del Teatro Amatoriale non potrebbe esistere questa serata. Sì, perché dobbiamo salutare intanto Anna Maria Carella, ma adesso lo farai tu. Perché Teresa è qui che è stata informata dalla nostra Presidente che per i problemi del G7, sapete, quindi il traffico è stato un po' limitato, venire da Bari era un po' particolare, lei che viene da sola poi. E quindi ha delegato in tutto la nostra Teresa Fumarola che è stata riconfermata anche responsabile provinciale. Domenica, per chi verrà a Bari sapete che c'è l'assemblea della FITA. Teresa. Buonasera a tutti, ovviamente porto il saluto di Anna Maria che mi ha chiamato stamattina dicendo la sua impossibilità proprio a muoversi, a venire qui per i problemi del G7. Quindi era molto dispiaciuta, però ha detto chiaramente di porgere i saluti di tutta la Federazione, di lei in particolare di tutta la Federazione. Quindi non mi dilungo perché so che la serata sarà lunga e quindi buona continuazione a tutti. Grazie, grazie. Benissimo, grazie, ma naturalmente la ritroveremo presto per le premiazioni. È un attimo che devo dare anche la targa, giustamente. Vedi Lino, vedi Lino qua. Sì. Ci dimentichiamo dei premi, è una cosa gravissima. Eccolo qui. No, questo è tuo. Grazie. Grazie.